Il libro di cui parliamo oggi è La vita che brilla sulla riva del mare di Rachel Carson. Carson è stata una delle più importanti biologhe e zoologhe statunitensi e in generale del Novecento. È una figura di primo piano anche per la riflessione e anche per la scrittura ambientale. Ma ancora prima di dire questo dobbiamo ricordare che senza Rachel Carson letteralmente il mondo che abitiamo non sarebbe lo stesso. Non sentiremmo probabilmente il canto degli uccelli perché grazie a lei, grazie al suo libro Primavera Silenziosa degli anni Sessanta, che è stato messo al bando in seguito il DDT. Prima di quel libro così famoso Carson aveva scritto una trilogia sul mare e l'ultimo volume di questa trilogia del 1955 intitolato The Age of the Sea è proprio quello che finalmente è stato tradotto in italiano con il titolo che dicevamo La vita che brilla sulla riva del mare. È un'edizione che è introdotta da una bella breve prefazione di Margaret Atwood, la scrittrice di cui abbiamo parlato in una delle ultime puntate di Lettera Verde. Di che cosa parla questo libro? Parla della vita che pullula negli ecosistemi costieri, al margine dell'oceano, nelle pozze create dalle maree o sulle superfici sabbiose o tra gli scogli. Ed è però molto di più che la semplice descrizione di quegli ambienti. Vorrei dire che ne fa la storia, ne fa il racconto, un racconto che si distende lungo l'arco di un tempo lunghissimo. Gli ambienti, le specie che abitano quegli ambienti, sono infatti il risultato in continua evoluzione di una storia, di una storia geologica, di cui le diverse forme di vita sono come delle pagine, le pagine di un romanzo, il romanzo della terra e del mare, potremmo dire, le cui conclusioni non sono state ancora scritte. E ci dice infatti Rachel Carlson in una delle pagine finali del libro queste parole con le quali vorrei chiudere. Su tutte queste cose vi sono ecchi del passato e del futuro, ecchi del flusso del tempo che cancella e non di meno contiene tutto quello che è stato prima, ecchi dei ritmi eterni del mare, le maree, il frangersi delle onde, il premere delle correnti come fiumi, che danno forma, modificano e dominano, ed ecchi del flusso della vita che scorre inesorabile, come una qualsiasi corrente oceanica, dal passato verso un futuro sconosciuto.